Eccoci qui, puntuali, io e Carol, questa sera facciamo una cosa importante, stasera facciamo un sacco di letture, tutte dello stesso editore, Morellini Editore, che devo dire sta sfornando, grazie anche alla direttrice di collana Sara Rattaro, sta sfornando un sacco di meravigliose autrici, allora, incominciamo a salutare, i primi due arrivati, ciao, Luciana, ciao, non vedo l'ora di venire in Sardegna per conoscerti, Bruno Volpi, ciao, ben arrivato, puntualissimo, l'aveva promesso, Ale, ciao, c'è anche l'Alessandra Perilli, uh Ale, se rimani qui con noi stasera mi sa che comprerai un sacco di libri domani, eh, Alessia, ben arrivata, ciao, Alessandra Scagliola, è arrivata la prima delle cinque protagoniste di questa sera, Alessandra Scagliola, adesso aspettiamo le altre quattro, forse Fabienne Agliardi, che ha di Ancona, sarà la prima a essere eletta questa sera, non sapeva se poteva esserci, perché aveva degli impegni precedenti, è arrivata anche Valeria Rivetti, la donna meravigliosa che mi ha regalato quella mascherina che vi ho mostrato, la mascherina viola, dove da una parte c'è scritto Luci e dall'altra parte c'è persino Gigi, anche Gigi si è emozionato quando ha visto la mascherina, me la vorrà subito rubare, nel frattempo è arrivata la direttrice di collana, perché questa sera facciamo proprio le cose super professional, e quindi Sara Rattaro, questa sera è la mia amica, è una scrittrice meravigliosa, ma in questo contesto è la direttrice di collana della Morellini, e quindi questa sera è anche in veste di, come si può dire, della serie sono proprio brava a scoprire i talenti, ecco potrebbe essere questo, vedi di leggere bene, ecco mi sta già cazziando, è arrivata Sara Pelizzari Ravolini, ciao, ben arrivata, Valeria Rivetti, aspetta che ti aspettiamo in Sardegna, arrivo presto, arrivo presto, Katia ciao, ben arrivata, grazie Valeria, come sei bella, mi sono fatta al lucco un po' da, ho divienuto un John, come piace alla Rattaro. Allora, ho scoperto una cosa incredibile, intanto che quando parlo così con voi ho una cocina genovese imbarazzante, quindi devo stare attenta perché se arriva Graziella Martinoli mi fa un mazzo dopo, e quindi devo parlare in su, perché sapete che per eliminare la cocina genovese uno degli stratagemmi, mi era insegnato Luisa Martinoli, la mia insegnante di edizione, è parlare in su, soprattutto per i Liguri, io dico. Io sono bravissima a scoprire talenti, le mie scrittrici sono bravissime, Camilla Gioppi, ecco, Camilla Gioppi è con lei che questa sera credo che qualcuno ce l'ha già, ma quello che non avrà comprerà. Allora, vi volevo dire questa cosa, ho scoperto una cosa incredibile, questa sera ho scoperto che la R viene prima della S. Io mi sono così impegnata a fare tutto in ordine alfabetico, poi oggi stavo guardando i libri e dicevo, ma sei completamente sciroccata, hai scritto per tutto il tempo Rabolini in fondo, invece Rabolini è prima della S. Quindi, vedete a cosa serve leggere tanto? Impari anche l'alfabeto. Nel frattempo è arrivata Stefania Nascimbeni, ciao, ed è un'altra delle autrici che leggerò stasera, quindi direi che abbiamo, ne abbiamo tre su cinque. Secondo me Sara Maria Serafini arriverà sicuramente, intanto si è aggiunta Fiorenza Pistocchi, ciao cara, e ormai ho un sacco di amiche io qui, è un onore tra l'altro che questa sera leggerò solo donne, senza togliere nulla agli uomini, per carità, però è anche bello poter dire wow, quanti uomini, quante donne che scrivono, e scrivono bene, vero Sara? Che ogni tanto ci si sorprende un po' del fatto che anche le donne sappiano scrivere, anche le donne vendono. GB valente, ciao, ben arrivato. Allora, io vorrei aspettare ancora un paio di minuti, eccolo, stavo dicendo, intanto aspetterei Mauro Morellini, telchi, l'ho chiamato con la testa, come si dice, l'ho chiamato, vabbè, non mi vengono i termini, non so, sarà un Alzheimer precoce. Bene, è arrivato anche lui, mi farebbe piacere che arrivasse ancora la nostra Sara Maria Serafini e poi sarei a posto, perché la Fabienne mi ha detto che non sapeva se ci poteva essere. Allora, scritto così, Rattaro non va bene, sarà meglio che specifichi, io preferisco le donne. Fiorenza, viva le donne, certo, certo. Allora, siamo passati da 30 a 23 occhietti, ma vabbè, una roba strana. Nella, ciao cara, ben arrivata. Allora, vi racconto come si svolgerà la serata, intanto speriamo che come l'altra volta non succeda nulla e che ci sia la connessione fino alla fine del programma e quindi speriamo, speriamo, speriamo e soprattutto eventualmente che sia il momento in cui dico scemenza e non il momento in cui leggo. Allora, io questa sera non presenterò le autrici, perché non mi piace parlare di chi non c'è e quindi non parlerò delle autrici, ma leggerò le quarte di copertina di ogni libro, a parte Sara, a parte la storia che racconto di Sara Pelizzari-Rabolini, che è un racconto e quindi non ha di fatto una vera e propria trama, quindi di lei dirò appena qualche cosina, giusto per par condicio. Allora, io direi di cominciare. Carol è qui con me, è felicissima, non vede l'ora di cominciare e quindi iniziamo. Iniziamo da Fabien Agliardi, Buona la Prima, non ve lo dico più che vede tutto al contrario, vero? Lo sapete già. Comunque fidate di me, c'è scritto Buona la Prima, Fabien Agliardi. Maia è una giornalista sulla soglia dei 40 anni. Ogni giovedì si ritrova con quattro amici, un libraio con la fissa dell'ucronia, una filosofa, un fanatico di foscolo e un archeologo maneggione. Una sera, tra i convenuti, viene lanciata la fatidica domanda. Qual è il libro che avete scelto di leggere? Il primo libro che avete scelto di leggere? Da qui, Maia decide di ripercorrere la propria vita attraverso le sue prime volte. Il primo amore, il primo giorno di scuola, la prima neve, il primo appuntamento, il primo brutto voto, quella prima volta e così avanti. Un divertente excursus fatto di tanto sliding doors, connotato da un umorismo tagliente in un alternarsi continuo di momenti nostalgici, situazioni surreali, difficoltà previste, battesimi obbligati, prove da superare con l'immancabile compagnia di un'ironia cinica e smaliziata. 1980, la prima fiaba. La prima fiaba è quella dell'imprinting, quella che ti segna per sempre nelle angosce oppure quella che ti forgia e ti prepara al mondo. I fratelli Grimm, con quel nome Arcigno, ne hanno sfornate di epiche. Cenerentola, la sguata era con le scarpe di vetro. Chissà che comodità. Biancaneve, la fruttariana coinquilina di sette nani staccano visti e Cappuccetto Rosso, che prende il nome dal suo outfit perché in realtà non sa nemmeno come si chiama. O la bella addormentata, che con la scusa del maleficio non si degna di cercarsi un lavoro e campa con la pensione delle fate madrine. Per non parlare dei tre porcellini, malavitosi dell'edilizia selvaggia. Oppure Ansele Grete, che con due genitori come quelli, ci si stupisce che non siano diventati dei serial killer. Io, con la prima fiaba, sono stata fortunata. Mia mamma, che avrebbe voluto fare la maestra ma con l'attività di famiglia era partita già condannata, ha sempre rifugito quelle precotte e me ne imbastiva sempre altre, pensate su misura. Cecilia, un nome dolce anche a pronunciarlo. Lei è sempre stata così, pacata, attenta, paziente. Abbiamo sempre parlato molto noi due, soprattutto attraverso le foto che mi ha fatto negli anni. Le scattava, a volte in posa, spesso a bruciapelo, per poi commentarle insieme una volta sviluppate. Lo abbiamo sempre fatto anche dopo, da grandi. Ogni tanto, quando ci veniva la nostalgia, mollavamo tutto e ci mettevamo a giocare alla giornata delle foto. A gambe incrociate sul tappeto le riguardavamo tutte, ricordandoci l'un l'altra dove eravamo, rispolverando ricordi di sponda, emozioni sopite. Era come tornare al momento dello scatto. Polaroid, cartoline quadrate e un po' seppiate. La mia vita era chiusa in decine di mazzi di foto legati da elastici verdi. Mettiamole in un album, proponeva con regolarità lei. Ma no, lasciamole libere, così riusciamo a sparpagliarle meglio per giocare nella nostra giornatina, no? Riuscivo sempre a convincerla io. Allora, volevo leggere invece il capitolo di quello che sto per andare a leggere. 1983, il primo giorno di scuola. Di colpo sentemmo un forte schiocco di mani. Il maffezoni era pronta ad entrare in scena. Congedò lo sparuto gruppetto di genitore rimasto fuori dall'aula, chiuse la porta e con passo lento e grave si avviò verso la cattedra. Si aggiustò con le mani la giacca di lino, si allisciò i baffi con pollice indice, tirò su con il naso e si schiarì la gola. Sembrava un direttore d'orchestra sul podio. Ci guardò a lungo, senza parlare, spostando gli occhi da sinistra a destra, come per registrare tutte le facce. Buongiorno, qualcuno lo sa già? Sono Ermanno Mafezzoni, ma voi mi chiamerete solo maestro. Vi porterò fino alla quinta e avrete sempre me in classe, a eccezione di insondabili cambiamenti del provveditorato. Ora ci conosceremo, ma intanto vi do cinque regole che per andare d'accordo dovrete sempre rispettare. Regola numero uno, quando entro in classe dovete sempre alzarvi in piedi per salutarmi. Chi sgarra prende una nota di demerito, anche gli zoppi che si issino sulle stampelle e guardò Torvo Mambretti. Regola numero due, lavatevi bene al mattino. Chi sgarra prende una nota di demerito e dovrà scrivere dieci volte la lavagna al suo nome e cognome con a seguire la parola puzza. Regola numero tre, non sono ammessi ritardi né dimenticanze di materiale scolastico. Chi sgarra prende una nota di demerito. Regola numero quattro, portate solo merende sane e leggere le brioscine e vi saranno sequestrate. Chi sgarra resta a stomaco vuoto. Regola numero cinque, qui non siamo più all'asilo, per cui non chiedetemi spostamenti accanto all'amichetta del cuore, prendetevela col destino e coi vostri cognomi e soprattutto chi ha sei anni ancora se la fa addosso, sappia che io non sono una suora pulisci culi. Chi sgarra se la tiene addosso fino a quando va a casa. Gli ultimi due punti mi crearono un subitaneo movimento di pancia, riportandomi con terrore allo scompenso dell'alba. Iniziai a sudare. Boh, chi di voi già sa scrivere o leggere? chiese a bruciapelo giusto per iniziare a creare scompiglio. Alzammo la mano in quattro. Lui consultò il registro, alzò la testa e fece mente locale con la disposizione dei banchi. Ah, tu sei la figlia dello spretato? Io lo guardai atterrita, inconsapevole del significato della parola. E che cognome è Mao? Lengat? proseguì sadico e suscitando risolini. Comunque, Mao, vediamo un po' come sai leggere. Lì sul muro ci sono dei poster. Sono le lettere dell'alfabeto. Vai sulla U e leggi la parola sopra la foto. Un, due, tre. Non avevo fatto nemmeno in tempo a tirare fuori l'astuccio che già venivo interrogata. Spinsi indietro la sedia e mi girai verso la U. Mi fissavano tutti con uno sguardo compassionevole. Ma io sarei stata una scolara bravissima. Me l'avevano detto tutti a casa. Dovevo solo trattenere il cagotto. Sul poster con la U c'era la fotografia di un uccellaccio con la cresta rossa puntinata di nero. U pupà! lessi rapida. Sentii addosso 42 occhi ammirati, più quelli infastiditi del maffezoni che evidentemente aveva perso il gancio per pungolarmi. Boh! U pupà! Come vedete è un uccello. Il gatto Mao se l'è pappato solo grazie alla sua copiosa fortuna. Ora sentiamo gli altri tre geni cosa sanno fare. Copiosa? Stava forse dicendo che ero una che copiava? Ma come gli veniva in mente? E da chi avrei copiato? Di grazia. C'era solo da leggere e nessuno mi aveva suggerito. E poi copiare il primo giorno di scuola? Roba da matti. Mi aveva già schedato senza conoscermi. Gli avrei dimostrato che nessuno poteva dare della copiosa a Maya Mao. Fatto! È andata! Fabiana, nel frattempo sei arrivata. Sono contenta che hai ascoltato la seconda lettura. Nel frattempo saluto chi è arrivato. Federica Candido. Ciao, grazie. Mi dice anche brava Luci. Grazie. Ciao Lucia, sono arrivata al volo. Ho finito la lezione. Sara, ciao, ben arrivata. Con la S di Serafini. Quindi non ti preoccupare che sei l'ultima. Scoprirai che ho scoperto la S essere dopo la R. Vabbè, ma quando riascolterai il tutto capirai. Comunque sono felice che tu sia arrivata. L'angat l'hai detto benissimo. Sono morta da ridere. Bene, perché da Ligure sai fare certi accenti. Marco Pugioni. Ciao, ben arrivato. Raffaella, ciao. Poi c'è Roberta Lombardi. Ciao. Questo libro che ho amato da subito mi ha fatto ridere e mi ha commosso, dice Sara Rattaro parlando di questo libro e io sono d'accordo con lei perché è veramente bello. Ma devo dire che questa sera ho una veramente una top five incredibile e dato che Sara Rattaro non fa altro che scoprire talenti. Mi sa che non sarà l'unico giovedì dedicato a Morellini editore, eh. Maria Francesca Tomasini. Ciao, cara, ben arrivata. Elvira, ciao. Poi chi c'è? Poi chi c'è? Poi chi c'è? Vincenzo Cosimano. Non ti posso seguire. Ciao. Grazie di essere passato. Gianluigi. Poi Fabiano Merzari. Ciao. Vediamo un po'. Ma che bello questo libro. Complimenti Fabi. Tutti miei. Ottimo. Sempre bravissima. Lucia Caponetto. Grazie Fabiana. Grazie molto. Storia esemplare. Bravissima come sempre. Grazie, grazie, grazie. Allora, brava, bello, brava, Luci. Grazie, grazie. Andiamo al secondo romanzo. E di nuovo questo mi ha fatto piegare dalle risate. E non solo. Happy Happy Family. Ragazzi, l'ironia delle donne è incredibile perché noi riusciamo anche nei momenti più truci in qualche modo a sdramatizzare. Vuoi scrivendo, vuoi con la battuta, vuoi con... Però siamo davvero tante donne a riuscire a rendere un momento drammatico costruttivo. Correggetemi se sbaglio, se avete il coraggio. Allora, intanto abbiamo già un titolo segnato sulla lista. Katia Mirabile sarà la prima ad acquistare questo. Nel frattempo è arrivato Gianni, ciao. È arrivata Piera Rovera, ciao. E quindi passerei alla seconda... alla lettura del secondo romanzo di Stefania Nascimbeni. Happy Happy Family. Quarta di copertina. Entrare in terapia per curare un disturbo alimentare e scoprire la fine del proprio matrimonio? Succede se hai passato tutta la vita fingendoti una geisha e invece sei lo spirito vivente di un ardente samurai. La protagonista è una donna come molte che dopo aver recitato nei panni di un'altra, se stessa, tornerà libera, sì, ma dovrà confrontarsi con le difficoltà di essere una madre separata. Farà i conti con una Milano che non offre grandi speranze per una trentenne single con un figlio piccolo. Lavori precari, uomini sposati, altri casi umani. Per fortuna c'è la sua bizzarra famiglia extra large, dove tutti sono separati e risposati con altri separati, con figli. Riuscirà la protagonista a fare pace con il suo spirito inquieto? Di certo scoprirà la felicità smettendo di essere come vogliono gli altri. Comunque non ero la sola. Quell'anno iniziarono a spuntare coppie sull'orlo della separazione che se ne dicevano di ogni. Segue una conversazione tipo rubata a due amici che oggi non stanno più insieme, cioè sì, stanno ancora insieme ma con gli amanti. Hai comprato l'acqua? Non ho avuto tempo. Dovrei pensarci io? Non ho detto questo. Allucinante. Ma che cosa? Lascia stare. Ma vaffanculo, va! Mi resi conto che il matrimonio non era affatto quell'idiglio che mi aveva descritto mia madre in ogni dettaglio e non bastava capire, comprendere, essere accondiscendenti per salvare la situazione, anche se per lei aveva funzionato. Provai perfino a trascinare la mia dignità in terapia di coppia, sperando di trovare quel famigerato punto in comune la terra di mezzo, banalmente un po' d'amore. Ma invece mi pervaso una sensazione di totale inutilità, come quando cerchi di infilare il filo nella cruna del lago senza occhiali e perciò l'abbandono. Tutto peggiorò con l'ultimo corso di scrittura creativa che anticipò la mia pubblicazione come esordiente. Salto fuori che avevo anche io degli ambizioni, desideri che facevano battere il cuore. Fu come spostare un po' l'asse di rotazione della terra. Tutto assunse un aspetto differente. Non volevo più essere premiata per il mio buon carattere. Il mio carattere era pessimo e spesso si manifestava anche senza il mio permesso, specie nei racconti pieni di sesso, rabbia, deliri. Desideravo essere amata per quello che avevo scoperto di essere. Creativa e un po' buffa, tenace e rumorosa. Sono fatta così. E più comprendevo quel lato di me stessa, più scompariva quell'altra che aveva finto di essere la fatina del focolare. Un altro che geisha. In fondo al mio cuore albergava un vero e proprio samurai. vi leggo l'inizio del capitolo. Capitolo 7. Resilienza e family, scusate, e family friends. La sister, invece, è una leader nata. Osservarla dietro una scrivania è un'esperienza da cui ci sarebbe veramente tanto da imparare. Quando fui la sua assistente per un progetto di comunicazione nel 2015, riempì il sacco di molte abilità. Certo, avrei voluto mandarla a stendere dopo le prime due ore, perché è anche la classica persona, un po' nevrotica, che mentre ti chiede di fare una cosa e stai per cominciare a farla, ti sta subito dicendo di farla un'altra. Ma dopo cinque minuti torna a premere per quello che ti aveva chiesto prima e nel momento in cui stai cercando di fare questo e quello, ti ricorda che hai lasciato indietro tre scadenze. Una bolla di accompagnamento, una mail urgente, una chiamata con l'interfono e magari ti scappa pure la pipì, roba che sta per scoppiarti la vescica, ma non puoi certalzarti, senza contare che non ci sarebbe momento peggiore per ricevere ogni mezz'ora le chiamate di tua madre, che vuole sapere come va. Ma è proprio quello che accade. Perciò hai il cervello in ebullizione e iniziano a venirti tic come in vien avanti il cretino. Mia sorella è anche la persona più affidabile, sicura, sincera, seriamente che io conosca, trasparente in modo quasi disarmante, è bionda, bella, divertente e rompiscatole come nessuna. Non la cambierei per niente al mondo. Era poco più che maggiorenne quando venne alla luce dopo un difficile parto podalico con il cordone ombelicale legato intorno a modi pashmina e un cesario che costò a mia madre una settimana di febbre taurina. E perciò non poté tenermi tra le sue dolci braccia fino all'ottavo giorno. Una ragazzetta magra magra e con i capelli arruffati, mia sorella, che dal giorno alla notte, le 4.20 per la precisione di un lontanissimo mercoledì di agosto di fine anni 70, si era vista portare via il primato di figlia femmina. Probabilmente per questo all'inizio fece una gran fatica a digerirmi. Brutta ero brutta, poi appena nata, cosa che le diede definitivamente l'alibi per non rivolgermi uno sguardo finché non assunsi le fattezze di un bebè e non quelle di un cucciolo di scimpanzè con la testa da bubble head. Cosa che avvenne più o meno intorno al sesto mese di vita quando cominciarono a ricrescermi i capelli che le ostetriche mi avevano brutalmente rasato intorno alle tempie per attaccarmi alla flebo che mi erano servite per nutrirmi nell'incubatrice appena venuta al mondo. Il destino del mio nome fu affidato alla sister e a dire il vero non mi è piaciuto mai un granché. In ogni caso mi è andata meglio di come avrebbe voluto chiamarmi mia madre Samantha con TH per l'affetto che nutriva nei confronti della famosa streghetta della serie americana, quella a cui bastava arricciare il naso per far risplendere il soggiorno. Finché rimasi la bambina che lei stessa avrebbe tanto desiderato essere, quella con una cameretta, delle barbi, un lettone con due genitori nel quale potersi rifugiare dopo un brutto sogno, non avemmo molto da dirci mia sorella e io. Vuoi anche per quei 19 anni di differenza. Avevo forse fatto la prima comunione quando lei aveva già girato il mondo e andava a convivere con il suo primo fidanzato. Ci ritrovamo più avanti, intorno ai miei vent'anni, in effetti nello stesso periodo in cui cominciai anche a risolvere i problemi con mio padre, seppellendo a mia volta la naturale gelosia che nutrivo per lei, che era sempre stata la cocca di papà, l'acciughina da proteggere, la figlia che aveva avuto meno dalla vita, che poi forse la mia era soltanto ammirazione. Stefania Nascimbeni, una giornalista e scrittrice meravigliosa, l'ho adorata da subito e poi sapete che c'è, che è proprio una bella persona. Ci siamo conosciute per adesso soltanto via chat, ma mi sa che presto ci conosceremo di persona, quindi benissimo. Bene, i primi due sono andati, ne abbiamo ancora tre. Il terzo brano ve lo leggerò dopo aver bevuto un goccino d'acqua. Nel frattempo io aspetto che voi commentiate, commentiate, commentiate. Non faccio la pubblicità. Di nuovo. Ecco, un bicchiere trasparente. Tutto in diretta faccio, anche ore sono. Caspita, sono già le sei e mezza. Oh, che bello, mi arriva bravissima Lucia da Mauro Morellini. È l'editore, voglio dire, fa piacere, no? Tra l'altro, ho letto anche qualcosa che ha scritto Stefania, stupenda, sul mio Vaffa. Devo dire che mi sembra di capire, leggendo veloce, che il mio Vaffa sia stato gradito. Aspetta, eh. Sul Vaffa hai fatto tremare i muri, ti adoro. Fabienne risponde, lo stava dicendo a qualcuno, secondo me. Eh, perché no? Il libro è, Giussi scrive, Giussi Ponti, il libro è il solo legame che possa ricongiungerci al mondo quando non possiamo più esservi presenti interamente. Alla tua età, ad ogni libro tutto può succedere. Che bello, è vero. Alessandra Scaiola, il Vaffa mi ha fatto cadere l'uncinetto, sono troppo vecchia per queste cose. Ciao di Corsa, sì c'è da qualcuno lì, sostengono, stupenda, grazie, bellissimo al mento dei tic. Bello e brava Lucia, grazie. Bravissima, bravissima, grazie, bravissima. Sei pure bella. Oh, grazie amica. I primi due li ho già messi nel carrello. Hai visto? Questo mi piace sentire, che poi li compriate. Bravissima Lucia, brava e bella. Le parolacce le dici in modo naturale. Mi vengono spontanei. Anzi, a volte la Rattaro mi diceva, smettiti di dire parolacce. Maria Lanza fame. No comment, letto da te, sembra tutto bellissimo. Ma grazie. Bello, mi era già piaciuto in una tour precedente. Bravissima Lucia, molto ispirato. Sempre i miei Vaffa. E PIP Family mi ha fregata subito. L'ho adorato. Mi ha stregata, ma mi hai stregato magico. Ragazzi, sto sudando. Io adoro il genere, perché unisce i momenti di spensatezza e i momenti molto profondi. Mi sono d'accordo. Ciao amica, mi scrive Raffaella Verney. Arriva anche Vittoria. Ciao Lucia, sei fantastica. Wow, bene. Adesso mi fate sudare. E adesso è arrivato il momento di... Il racconto di Sara Pelizzari-Rabolini. Dovete sapere che questo racconto è all'interno di questo libro che si intitola La vita vista da qui. Visto che la Rattaro si annoia a scrivere solo romanzi, e allora ha una scuola di scrittura e direi che è il terzo anno questo. La vita vista da qui era il primo anno. Settimo non rubare era il secondo anno. Sono impreparata sul terzo. Se mi potete aiutare. Lei ha questa scuola di scrittura che dirige a Milano. Direi che la fa il sabato. Aiutatemi, vi prego, aiutatemi. E Sara Rabolini ha scritto un racconto che è stato poi editato qui. Perché la cosa bella della scuola di scrittura di Sara Rattaro è che alla fine del corso vengono scelti dei racconti che vengono pubblicati. Non c'è ancora il titolo nel terzo, mi sta dicendo la Sara Rattaro. Quindi non potevo ricordarmelo, meglio per me. Quindi vengono pubblicati dalla casa editrice, ovviamente, Morellini. E c'è all'interno un racconto anche di Sara Rattaro. Bene. Io continuo nel frattempo a leggere e avere conferme che ho detto tutto giusto. Quindi posso leggere un brano tratto dal racconto, che purtroppo non vi posso leggere tutto, di Sara. La fabbrica delle storie è la scuola. Ecco, mi mancava solo il titolo corretto. La fabbrica delle storie. L'acqua gasata? Fa benissimo per leggere. Un momento meraviglioso, la scuola di scrittura. Direi che ha successo la tua scuola di scrittura. Ma in effetti io non ho partecipato mai. Ma conoscendo Sara, conoscendo alcune delle persone che hanno partecipato a questa scuola, non ho dubbi. Non ho dubbi che sia un bel momento. E quindi informatevi per chi può. Si intitola Una latta di pesche. Ero andato sicuro alla visita della leva. Un obbligo per tutti quelli che avevano 21 anni, la maggiore età. Ma essendo l'unico maschio di casa non sarei partito mai. Per questo non avevo neanche mai fatto attività paramilitare. Il governo fascista, vista la mia condizione familiare, mi aveva esonerato. L'avrebbe fatto anche questa volta. Mi sentivo come quelle pesche che trasportavo per il Macchi, al sicuro, nel mio barattolo di latta e zucchero. Unico figlio maschio? Sette sorelle? Mai fatto parte dell'opera balilla? Allora, al militare ti farà solo bene. Avevo sentito il rumore del timbro stamparsi sul foglio della mia destinazione, che recava il marchio del fascio e veniva accompagnato dal sorriso fiero del gerarche in camicia nera. «Per la patria!» aveva detto stendendo il braccio destro con vigore, mettendosi sull'attenti, rivolta alla fotografia appesa al muro con il grugno del duce. Non sapevo perché lo avesse fatto. Non sapevo perché io non avessi obiettato nulla. Non sapevo perché sarei andato via di casa per due anni, ingiustamente. Non sapevo cosa fosse la patria, né mi importava imparare a combattere. Non sapevo perché quel fascista mi stava punendo, perché certo, quel che sapevo è che quella era una punizione. Forse è per via del Louisè, che mi aveva dato un lavoro. Certe sue idee socialiste non erano ben viste dai fascisti. Un giorno mi aveva chiesto di nascondere dei volantini in casa mia. «Se arrivano quelli, bruciali!» mi aveva ammonito. «E io, il Louisè, l'avrei protetto e difeso. Avevo un debito con lui. Ma da allora in poi avrebbe dovuto fare tutto da solo. Sarei dovuto andare via. Partire. Ma per dove? Non sapevo perché mi mandavano ad Alba, come recluta, a fare il car. A volte non ci sono ragioni precise, ma solo persone più buone di animo rispetto ad altre. E quel fascista non lo era. Non gli avevo fatto compassione, orfano di padre e con sette sorelle. No, gli era sembrato di farmi un favore per rendermi soldato. Non lo so. Sapevo solo che ero in balia del mio destino. Anche mia madre non sapeva darsi pace. «Se Dio vuole così!» aveva poi detto rassegnata facendosi il segno della croce. Mi aveva messo al collo la catenina con la Madonna dell'aiuto, certa che mi avrebbe protetto e ricondotto a casa. Non avendo la quarta di copertina, vi racconto qualcosa di lei. Sara Pelizzari-Rabolini insegna lettere in una scuola secondaria di primo grado ed è giornalista pubblicista. Ha pubblicato il romanzo R come è infinito, che mi sa tanto leggerò il giovedì prossimo. Sarà uno dei miei romanzi che leggerò il giovedì prossimo. Questa è un'anteprima che vi do. è stata finalista del Garfagnana in giallo 2017 e del concorso Sock, Melch e Canzone edizione 2017, partecipando alle relative pubblicazioni antologiche. Sara fa anche parte degli autori di Il mostro dagli occhi rossi e altre storie, delle quali faccio orgogliosamente parte anch'io nella doppia veste di autrice e lettrice ad alta voce. Mi diverto da pazzi, dovete scusarmi, però io mi diverto. E quindi, se comprate Il mostro dagli occhi rossi e altre storie, troverete Il popolo in piedi, lì sarà per pellizzare i rabolini, e anche, tantissime altre storie, anche Alessia Figgini ha scritto delle storie, che è qui con noi, ha scritto delle storie per Il mostro dagli occhi rossi. Insomma, siamo in tante, siamo in tante, e soprattutto è meraviglioso il fine per il quale è stato fatto quest'ebook, che a breve sarà anche cartaceo, Renato Piatti è la fondazione, che si occupa di bambini autistici e con seri problemi di comunicazione, quindi direi che vale la pena acquistarlo, sia in ebook, sia quando uscirà cartaceo in libreria. Io non vedo l'ora di acquistarlo in libreria, perché, insomma, c'è un pezzo di me, e quindi bene. Allora, scusate, devo bere di nuovo. Allora, per chi fosse preoccupato, ho fatto il sierologico e sono negativa, quindi questa tosse non è dovuta al covid, ma soltanto alla sfiga, perché questa tosse non mi passa più. Allora, adesso arriviamo al quarto romanzo. Dai che siamo bravi, sono i 35. Questo romanzo qui mi ha fatto impazzire, ma mi sono divertita! E adesso vi racconto un po' di che cosa tratta. Alessandra Scagliola, che è un'altra donna meravigliosa che a breve conoscerò di persona, non vedo l'ora. La cosa più bella, ve l'ho già detto forse, la cosa più bella di questa quarantena è che vi ho conosciuto, e ho conosciuto veramente un sacco di persone che mi stanno dando un calore, un affetto, una gioia, che io non vedo l'ora di conoscervi di persona. E credo che un tour lo farò. Non so come, non so in che modo, magari ci aiutiamo, ci incontriamo da qualche parte, ma lo farò. Allora, tanto scrivono di te Sara Pelizzari-Rabolini, che il tuo racconto è emozionante, super sonico, un bellissimo pezzo emozionante, ed è verissimo. Grazie Sara che scrive, è emozionante sentirti leggere. Mi hanno mandato un fiore, grazie. Ciao Lucia, sei unica e stancabile, buona serata. Grazie mille. Molto bello, dicono, veramente coinvolgente, un racconto pieno di anima. Ma è trascinante, bello, brava, fantastico. Allora, se smetto di tossire, continuo. Il primo di Alessandra, mi è piaciuto tantissimo, non vedo l'ora di leggere questo. Questo qui è meraviglioso. Però devo essere senza tosse, perché altrimenti non lo leggo bene. Allora, Quarta di copertina. Pronti ai posti? Via! Un roccambolesco, viaggio in una 500, azzurro pastello, tra Torino e Dublino. Alla guida, un'agorafobica, pronta a giocarsi il tutto e per tutto contro le sue paure e le sue manie ossessivo-compulsive e i suoi titanici attacchi di panico. Nel tentativo di salvare se stessa o un aspirante suicida, che ha conosciuto su un blog. Un tragicomico flusso di coscienza dal ritmo incalzante, narrato con autoironie e sarcasmo in cui profonde meditazioni e grottesche vicende si fondono con momenti di autoanalisi, allucinazioni e lucida follia. Più dentro che fuori di Alessandra Scagliola In auto Alla prima uscita abbandono quel mondo artificiale zeppo di linee parallele, continue e discontinue. Quelle continue sono le peggiori, per qualche motivo che ignoro, sono quelle che mi urtano di più. Mi trovo in un posto strano, piuttosto squallido, su una strada stretta con una regolare fila di cipressi su ogni lato. Un bel paesaggio cimiteriale. Viene voglia di comprarsi una bara e stare lì ad aspettare la fine. In attesa della morte mi piacerebbe dare un'identità al luogo che ospiterà le mie spoglie. Ho letto il nome del paese, ma non lo ricordo più. Si vede che non era importante, diceva la mia nonna ogni volta che qualcuno perdeva il filo del discorso. A quei tempi io pensavo che forse un pintone di vino ingollato nel giro di una cena avesse il suo peso, ma lei lo diceva con una tale convinzione che pareva assurdo imbastire una teoria alternativa. Dove siamo? chiede Ettore. Lo dovrei sapere? mi chiedo io. Mi fermo all'ombra di un cipresso. I cipressi fanno un'ombra patetica. E tiro fuori una cartina stradale. La guardo con concentrazione e interesse, benché non riesca a scovarvi un punto di riferimento è stato utile. I nomi dei luoghi mi sono del tutto sconosciuti, ma mi impegno per alcuni minuti nel tentativo vano di tradurli in italiano. Quando prendo atto di tale sforzo, mi sorge un dubbio. È normale possedere una carta stradale del Piemonte con le località denominate in un'altra lingua? e soprattutto perché non trovo Touraine, il capoluogo? A rigor di logica dovrebbe essere scritto a caratteri più grandi e invece la località in grassetto maiuscolo è Paris. Mi sa che ho sbagliato mappa. Ora si pone un problema. Non si tratta di orgoglio, solo di mantenere una parvenza di dignità e se adesso prendo un'altra cartina dopo aver fissato questa per un quarto d'ora buono, ai due sorveglianti potrebbe sorgere il dubbio che io stia facendo un po' di confusione o che comunque mi sia persa. Quindi annuisco immergendo la faccia tra i contorni della Francia e inizio lentamente a ripiegare la carta cercando di farci un origami. Mi stampo un sorriso deciso sul volto e dico che dobbiamo proseguire in linea retta fino a quando noi incontriamo un bivio. Quale bivio? chiede quel cavilloso di Ettore. Non è così importante tronco io. Passano i cipressi e anche qualche tiglio quindi arrivo in una terrificante rotonda da cui si diramano un'infinità di strade di media grandezza apparentemente tutte uguali. Tale omogeneità strutturale mi rende difficile anche affidarmi all'intuito. Un colpo d'occhio e un po' di fortuna mi permettono di escludere una possibilità. Un cartello indica che da lì si va a Torino e vogliamo mica tornare indietro. oh sì disperatamente e qui c'è un dialogo tra due uomini ebbene sì mi cimento anche in un dialogo breve tra due uomini ma è veramente veramente divertente. vi ricordate che all'inizio vi ho letto nel tentativo di salvare se stessa ho un aspirante suicida che ha conosciuto su un blog parliamo di lui io volevo dire anche il titolo del capitolo per il tuo sguardo per il tuo sguardo mai 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 regalare l'accesso illimitato alla propria abitazione dal momento in cui ottengono le chiavi di casa tua le persone si trasformano in creature orribili e invadenti è la prima affermazione che sfugge dalla bocca atterrita di Alex Bernie ha aperto la porta a polizia e paramedici i primi si sono essenzialmente occupati di mobilizzarlo i secondi di stordirlo l'hanno prima lusingato con promesse di cui non ha capito il senso poi si è sentito avvinghiare da braccia fossenti che l'hanno fatto cadere direttamente su una scomoda barella l'atto successivo è stato coprire la sua nudità continuando a ripetere tranquillo ma io sono tranquillo lo ero voi mi state spaventando a morte non c'è da avere paura ora ci siamo noi dice un paramedico con voce falsamente cedevole appunto che succede tranquillo ribadiscono in tempi record si ritrova legato al letto di un ospedale con le corde del torpore e fissa un soffitto grigio altrettanto cordialmente è invitato a colloquiare con lo psichiatra è un omone con una barba da Karl Marx gli occhi da ratto e un'eccessiva produzione di forfora pare disattento forse un po' ambiguo o problematico ma Alex non è qui per estrapolare un quadro clinico dal bofonchiare di un uomo corpulento in camice bianca e qualifica professorale lui dice poco si limita a snucciolare domande apparentemente incoerenti alle quali Alex risponde per lo più biascicando ma che ne so io le mie forze sono concentrate a tenere gli occhi aperti il paziente parrebbe non essere bipolare gli è stato annunciato con entusiasmo con un entusiasmo che lui non condivide sperava di potersi godere alcuni periodi di euforia ovviamente alternati alla più cupa depressione depressione ma perché i medici non osano più contemplare la semplice discreta lineare teoria dell'infelicità da quando l'infelicità è diventata malattia la depressione è la patologia della nostra società lo ha detto lui lo psichiatra con evidente autocompiacimento per la propria bontà come se lo stesse sollevando dalla solitudine consegnandogli il passaporto di una malattia sociale integrandolo nei turbamenti comuni e se il mondo fosse infelice solo infelice dico ma perché buttare giù pillole per alterare una condizione che asseconda la logica dei tempi è innaturale anche anche immorale direi forse è nell'ordine delle cose un pianeta di sorrisi falsi marx si accarezza la barba potrei darle ragione sempre dare ragione ai pazzi ricorda Alex ma lo psichiatra continua tuttavia nel suo caso specifico siamo davanti a un tentativo di suicidio sarà d'accordo con me che in questo mondo popolato dall'infelicità non tutti si tolgano la vita giusto? giusto un cazzo chi ha tentato il suicidio? chi? io stavo trovando il mio baricentro potevo farlo sul cesso come sul davanzale della finestra tra baricentro e morte c'è differenza giusto? più dentro che fuori Alessandra Scagliola che sta piangendo lo so bene siamo arrivati al quarto romanzo poi dopo facciamo di nuovo una carellata perché non vorrei mai che vi dimenticasse qualche titolo qualche autore la casa editrice Morellini direi che è abbastanza evidente la direttrice di collana Sara Rattaro direi che è abbastanza no? sto gridando tantissimo mi sa adesso parlo un po' più piano perché in realtà tra un momento perché il momento acqua è fondamentale oggi più che mai perché ho deciso di mettermi questo delizioso maglioncino ho intravisto un pazzi Kensit di qualcuno che andrò poi a rivedere di chi era o l'ho intravisto ho messo questo meraviglioso maglioncino che pesa 100 kg faceva freddo prima adesso ci saranno 100 gradi lacrimuccia l'ammette l'Alessandra Scagliola letti da te sono tutti bellissimi grazie Lucia ma grazie Ale arriviamo a leggere questo quando una donna Sara Maria Serafini qui si ride un po' meno è una storia di due donne è meraviglioso io vi vado a leggere la quarta di copertina come poi fatto per tutti e poi vi leggerò due brani Anika è polacca ha lasciato la sua terra d'origine prima per la Calabria e poi per Torino dove vive con Adam che si prende il suo corpo come si fa con un resto come qualcosa di dovuto quando scopre di essere incinta sopraffatta da sentimenti contrastanti decide di tornare dalla madre dalla sorella che vivono a Rossano in Calabria anche Claudia vive a Rossano è sposata realizzata non le manca niente se non un figlio una mancanza che lentamente sta generando un vuoto capace di ingoiare le due donne si scopriranno simili il destino le farà incontrare insieme affronteranno paura e fragilità alla ricerca di nuovi equilibri e di un riscatto per se stesse allora io leggerò un piccolo brano di Claudia e un piccolo brano di Anika perché se poi mi sentono magari ci rimangono male Claudia il corpo di Damiano è tonico e muscoloso sembra ancora il ragazzo di quando si sono conosciuti lo spia di nascosto seduta sul water quando notava questa intimità spinta nelle confidenze delle sue amiche sposate o ricordava le abitudini dei suoi genitori provava un senso di fastidio scusate non è accettabile non l'ho letto bene ricomincio Claudia il corpo di Damiano è tonico e muscoloso sembra ancora il ragazzo di quando si sono conosciuti lo spia di nascosto seduta sul water quando notava questa intimità spinta nelle confidenze delle sue amiche sposate o ricordava le abitudini dei suoi genitori provava un senso di fastidio non riusciva a capire l'assenza di pudore la mancanza di vergogna un attimo prima chiudi la porta chiave e l'attimo dopo la lasci spalancata ora è normale scendere in mutande a fare colazione pisciare mentre Damiano si lava Claudia stacca tre pezzi di carta igienica e li ripiega più volte poi si sposta un po' di lato per pulirsi Damiano si asciuga come meglio può stringendosi nell'accapatoio ogni volta finiscono per comprarne uno troppo piccolo per le sue spalle così pronunciate Claudia ha abbassato il coprisedile e si è messa di nuovo a sedere sul water c'è sempre qualcosa che sentono di doversi dire qualcosa di tremendo e definitivo tranne oggi che lei vorrebbe parlarne di sogni proiezioni di una speranza oggi siamo a pranzo da mia madre Claudia chiude la bocca qualche attimo prima teneva le labbra succhiuse seguendo una forma circolare muovendole appena come fanno i pesci e ripetendo in testa alcune parole da dire ma l'unica frase che era riuscita a formulare alla fine era una domanda perché? Damiano si gira molto lentamente quando fa così è arrabbiato in lui le reazioni sono opposte rispetto a quelle di tutti gli altri esseri umani ad esempio se negli altri la rabbia rende i movimenti scattosi a lui lo rallenta perché cosa? perché è mia madre? ma certo non volevo dire questo mi chiedevo se ci fosse qualche motivo particolare che avevo dimenticato tutto qui Claudia invece quando sa di essere in difetto diventa precisa parla a denti stretti scandendo bene le parole tiene la schiena eretta non c'è nessun motivo particolare ok Claudia esce dal bagno il vapore della doccia del marito ha inumidito le piccole bolle di felicità che sentiva galleggiare sul cuore ora sono pesanti teme per loro perché potrebbero affondare mentre cerca un vestito adatto o al pranzo che l'aspetta si rende conto che non troverà nulla allora tenta di neutralizzarsi raccoglie i capelli lunghi in una coda infila un pantalone nero e un maglione color fango ha la stupida convinzione che se si rende invisibile quella donna forse eviterà di parlarle Anika non più qui la scoperta che i suoi vestiti le scarpe qualche cd entrano in una sola valigia rende Anika triste fa un passo indietro e osserva gli anni trascorsi a Torino raccolti e ripiegati con cura sul letto li rivede lì ordinati e in fila gli anni nei vestiti da lavoro gli anni passati a camminare per la città appena arrivato e con una voglia pazza di conoscerla all'inizio sembrava che potesse realizzare i desideri regalare una vita piena di possibilità ci sono anche due o tre top attillati che infilava quando frequentava locali fumosi in cui trascorreva il tempo seduta sugli sgabelli accanto al bancone accavallava le sue gambe lunghe e restava in attesa di incontrare qualcuno che la salvasse dal suo destino solitario una di quelle sere aveva incontrato Adam le era parso così naturale che due solitudini dovessero intrecciarsi all'epoca pensava che sarebbero diventate potenti nella loro malinconia cristallizzata oggi sa che se mescoli due grigi ne viene fuori un altro ancora più cupo e intenso Adam le aveva offerto un martini all'epoca lei beveva drink semplici ci teneva a distinguersi dallo stereotipo dello straniero per farlo si teneva lontana da rossetti scuri e cocktail corredati da ombrellini ha passato l'intero primo anno in quella città ad allontanarsi dalla sua gente per poi finire con un uomo che dei maschi della sua razza aveva tutti i difetti quando spinge le ante dell'armadio quasi vuoto all'interno il suono si propaga con toni gravi e una maggiore velocità prima di chiudere la valigia decide di infilarci dentro il posacenere rosso che le aveva regalato Archira lo sciacqua sotto l'acqua del lavello lo asciuga con un pezzo di carta sorbente guardando la stanza dalla soglia le sembra discorgere una prospettiva nuova l'unica cosa che la colpisce davvero è il letto posizionato al centro è un letto che non ha ricevuto amore se li passava accanto gli lanciava una chiata gemeva di dolore per le lenzuola tese le pieghe inesistenti avrebbe voluto un letto sfatto sgualcito da qualcosa da una passione dolce o da una violenta da un errore che facesse vibrare qualche corda all'interno invece la perfezione delle fibre di cotone ricordava la sterilità di una sala operatoria cose che si devono fare per forza aridità emotiva dopo aver appeso le chiavi di casa ai ganci che Adam aveva fissato accanto alla porta la richiude piano vuole che l'aria immobile resti all'interno dell'appartamento non la porterà con sé quando una donna è veramente un libro meraviglioso guardate io non ho parole perché più che leggerli e farvi capire quanto siano belli allora vediamo che l'abbiamo fatto caspita le 7 meno 5 allora facciamo una rapida carrellata al contrario visto che ho imparato l'alfabeto mi metto alla prova provo al contrario allora intanto vi faccio questo momento così e poi dopo vi leggo allora quando una donna Sara Maria Serafini più dentro che fuori Alessandra Scagliola happy hippie family stefania nascimbeni buona la prima Fabienne Agliardi la vita vista da qui con il racconto una latta di pesche di Sara Pelizzari Rabolini allora adesso vi leggo un po' intanto Carol vi saluta allora il mio obiettivo non so se l'avete letto è arrivare a 2.000 visualizzazioni d'altronde uno al mattino si deve alzare e tanto vale che si alzi per obiettivi grandi e allora io punto alle 2.000 visualizzazioni sono certa che ognuno di voi potrà condividere questa meravigliosa puntata anche perché in questo modo condividerà meravigliosi romanzi e soprattutto farà venire voglia di acquistarli perché le librerie finalmente da qualche giorno già da una decina di giorni sono aperte e meritano l'attenzione di tutti noi leggere è la cosa che ti porta via in assoluto più di tutto e puoi avere qualunque problema qualunque fastidio qualunque che leggendo passa tutto perché ti fanno entrare 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 nei loro mondi allora andiamo a salutare un po' di persone mi prendo qualche complimento scusate ve lo leggo ad alta voce non so se voi li visualizzate ma io ve li leggo meravigliosa Lucia dice Alessandra Scagliola Bruno Volpi anche gli interpreti grazie tutte autrici bravissime credo che presto esibirò questi libri sui miei scaffali questo voglio vedere Katia grande che brave le autrici di questa sera stupenda interpretazione grazie emozione dice Sara ho avuto davanti agli occhi le immagini descritte bravissima l'autrice è vero Alessandra Perilli dice emozione tanta roba dice Fabio Agliardi che emozione grazie davvero di cuore grazie a te Sara Maria mi ha dato i brividi il testo e la tua interpretazione aggiunto alla lista brava Sara Maria Serafini e brava Lucia ragazzi c'è poco da fare quando un'autrice è brava è brava qui mi ringraziano Roman Jones ciao ben arrivato un altro di coloro che fa parte del libro il mostro il mostro dagli occhi rossi e altre storie il libro della Serafini l'ho regalato a un'amica ne è rimasta affascinata Fabiana Agliardi dice e certo dico io come potrebbe essere diverso immagini suggestive complimenti Sara grazie per sempre dice Sara Maria Serafini a Sara Rattaro Antonio Pugliese ciao la scrittura di Sara perché è vero bisognerà scrivere bisognerà che dica Sara Sara Maria Serafini è densa e piena di colore ed emozioni dice Sara Rattaro è detto da Sara Rattaro fantastica Luciana Riu questo libro è stato il primo che ho scelto un pezzo di cuore dice Sara Rattaro letti da te sono tutti bellissimi molte grazie lo ammetto lacrimuccia Sara Rattaro delizioso segnato grande autrice ragazzi allora non possiamo stare qui 18 ore stupenda Roberta Anna Lio Sara cuori 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 tantissimi cuori stavo dicendo una parolaccia ma si sa allora io direi che ci possiamo salutare sono molto 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 soddisfatta di questa serata alle 19 dovreste correre da Morellini perché mi sembra che ci sia una puntata una nuova puntata dello spritz no? della nostra Fabiana Fabienne se mi sento mammazza Fabienne Agliardi e quindi andiamo andiamo di là andiamo dalla Morellini page a vedere questa nuova diretta io vi ringrazio mi leggo ancora Elvira che mi dice meravigliosa come sempre grazie grazie a tutti buona serata e noi ci vediamo lunedì per la fiaba per i miei bambini e giovedì con degli altri romanzi ci sarà senz'altro Bruno Volpi ci sarà senz'altro come vi anticipavo Sara Pelizzari Rabolini e ci sarà Paola Servente il problema che mi piace e poi un quarto che vi dirò ciao buona serata e grazie 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 eravate tantissimi bravissima Lucia grazie dice Mauro Morellini ciao ci vediamo di là ciao ciao